È importante che oggi ci sia una piazza unitaria, le opposizioni unitarie, non sulla protesta ma su una proposta, c'è un piano per l'automotive molto dettagliato che il governo dovrebbe prendere, se non è in grado di farlo dovrebbe prenderlo e che finalmente si dica una cosa chiara, cioè che quello che hanno raccontato Elkan e Tavare sono un cumulo di balle. Fine.